E' il pescetto? Tutto a posto, come state? E come sto? Posso mangiare? Mi sento bello. Se mi vedesse bello oggi, state, dai risate. Odello, questo è un posto dove si è scritto che dall'incicca, non so il 50% delle sciverizzature di una lunga fascia del cinema italiano. E' una sezione del nostro paese, del nostro immaginario, della nostra cultura. Quando si viene qua si ha questa impressione sempre di vedere Mario, Monicelli, Federico, la gente che ha passato intere serate qua a chiacchierare, a progettare, a pensare al film nuovo. E credo che in un paese come il nostro che ormai fa molta fatica a mantenere la memoria, questa memoria bisogna difenderla brutalmente. che si ha chiesto un momento, tu hai che piensa e che fai. te chiama, te vega, te senta e te sonno. te sonne, questi sono i luoghi dove si è scritta una parte molto importante di mercato e che torna a continuare a avere del nostro paese, fatti di lavoro, di sapienza, di sapori e quindi ogni volta che vengo qua c'è questo sentimento e in un paese che sta perdendo i sentimenti è molto importante avere.